Sì, grazie. No, io dico, ci sono moltissime questioni rispetto al dibattito che occorre però che abbia una sua qualità, una sua apertura di diverse questioni. Tra queste, dunque la prima direi è il tema dell'omogenitorialità. Allora c'è un dibattito nella comunità scientifica, nell'ambito della psicologia e della psicanalisi che rileva che ci sono dei problemi laddove ci sono due genitori dello stesso sesso. Questo però ha un'altra... occidentale e assolutamente non può essere, come dire, messo al bando rispetto a una serie di legislazioni. Noto anche, tra parentesi, che a proposito del sostegno alla famiglia, che nessuno curiosamente parla di quali sono i costi sociali qualora passasse il decreto Cirinna. Leggo. 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 che mi discrimina, perché io sono uguale a lei, uguale a tutti voi e solo il matrimonio potrebbe dimostrarlo. Ha capito? Ha capito? E studi la scienza anche sui testi internazionali. Comunque volevo concludere il pensiero, era questo, concludo. In un secondo sì, mi perdoni, perché devo veramente chiudere. Le spese relative alla messa in atto, all'attuazione di questa legge, parlo come cittadino, c'è già una copertura che va di scapito di un milione e mezzo di famiglie che sono al di sotto della solle di povertà.